Ciao ragazzacci, io sono il video 125 e oggi siamo qui su Autobahn 2 Allora, allora, c'è un punto qui di missione, però non capisco qual è Amore mio, biondina, è con te che devo parlare, no? È con te che devo parlare, sì, ah no, devo aprire Ah, eccolo dov'è, qua è la macchinetta di caffè Ah, ho fatto la macchinetta di caffè, tutti state qui Ah, io le compro le cose, voi le usate Se vi spostate, vediamo con chi devo parlare Non so con chi devo parlare, c'è una missione, non capisco dov'è Cioè, questi non sono qui, loro stanno sempre qui Ecco, poi dicono che non lavorano Che non sia quello lì davanti Perché qui c'è qualcuno Tu vuoi parlare con me per caso? Posso parlarti di qua senza andare dall'altra parte Che mi sembra un carcerato, mi sembra che stai sempre qui dentro E che vita fai? Ok, speak Ok Così, proprio lì, così me lo dici We're in route, ok, accetto, accetto Non ho capito niente, c'è un problema Però subito così me lo dice, subito così Cioè, mi dice, dobbiamo andare lì, dobbiamo andare 12 chilometri devo farmi Il mio tizio è sempre qui, ok? Meno male che è giorno Reach your destination Ragazzi, vi faccio vedere come faccio per fare le destinazioni Sia, soprattutto se è già sbloccata Se voi andate su map Fate filter all Dice che dovete andare qui Ma io ho già sbloccato Aspetta, ho già sbloccato, vero? Il fast travel Non l'ho sbloccato Però io se prendo questo Mi avvicino un bel po' Quindi mi fast travelizzo lì Fast travelizzo è bellissimo come parole E mi faccio Mi faccio meno chilometri Infatti ci mancano solo 4,4 km Ok, stiamo arrivando a seriere spiegate Lampeggiate, tutto quanto C'è il rischio di collapse Vuol dire che può crollare tutto Può crollare Quindi fatemi fare un po' il giro Dov'è che dobbiamo fermarci? Qui Qui, 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 qui Fermi, fermi qua Allora io sono arrivato E mo? E mo che faccio? Ok, slow drown traffic Sometimes, ok A dangerous bot Deve essere subito messo in sicurezza In questo caso puoi rallentare il traffico Your partner will tell you When activate the lead signal To action or danger You should be Under 50 all'ora Ok, quindi mi dice lui Devo andare piano però Ok Ok, quindi siamo qui Aspetta, chiudo ste Caspita di sirena che non mi fa capire niente Che faccio? Vado io così? No, aspetta Devo andare dall'altra parte Me lo spiegate voi? Caspitina Marcia indietro sull'autostrada proprio Eh, non mi dice niente Non mi dice Cosa è successo? Qui, in pratica Quello lì ha fatto un incidente Ed è andato a Ok, stop over there Over there dove? Così? Mi metto qui? Ok, fermati Slow down traffic E mo che faccio? E mo? E mo che devo fare? Uh, caspitina Ok, c'è ancora un tutorial Ok Va bene, va bene Quindi mi sta facendo fare qualcosa Devo fare qualcosa Ha fatto tutto Tu che hai fatto? Ok Accident investigation Consiste un vario task Securing the scene Quindi Prima di fare l'investigazione Devi mettere in sicurezza In sicurezza La scena dell'incidente Fotografare la scena dell'incidente Bellissimo Accident sketch Penso siano le distanze Queste cose qui Prendere le misure Devo pulire poi Tutte le cose E devo dialogare Con le varie persone Accident investigation Finisce con il rapporto finale Ok La scena dell'incidente Dovrebbe essere messa in sicurezza Per prima cosa Per questo motivo Tu puoi prendere i traffic Iconi Iconi del traffico Quelli là giallini Insomma Dal tuo bagagliaio Della tua macchina E metterli nelle zone indicate Ok Quindi You should speak Che caspita Però devo parlare Con tutte le persone Ognuno ti dirà Il proprio punto di vista Sull'evento Che ti Contribuirà Contribuirà Non so più dirlo Perché c'è scritto in inglese La misura Vello va in tilt All'incidente Ok Inoltre ti diranno Dei piccoli segreti Che puoi usare Va bene Va bene Activate Camera By pressing X Use your Ok Devo premere X Poi uso Quello lì Per focalizzarmi E fare le foto Ok Tutto così Però sta dicendo L'accident sketch Con la CXC Ogni oggetto fotografato È definito da un'icona For better orientation Va bene Va bene Posso muovere gli oggetti Va bene E perché porca miseria Tu mi dici tutti così Però Press quello To switch from back and forth Va bene Quello lì lo giro Col mouse Caspita Mi sta spiegando tutto In un colpo This could be Vehicle part Shade Shade load Ok Ok Va bene Va bene Va bene Allora Prima di cosa Mettiamo in sicurezza L'incidente Open Poi facciamo Use Dammi i coni Ok E i coni Dov'è che li devo andare a mettere Ok Lo vedi qua Devo mettere tutto in sicurezza Come si fa a mettere il cono Ok Primo conetto Poi mettiamo i connetti Secondo conetto Non è proprio preciso Però va bene Terzo Codetto Conetto Che cos'è che oggi ne so parlare Speak to the driver Signor driver Intanto chiudo Chiudo qui Bagaglia No bagaglia lo lascio aperto Bello sto gioco ragazzi Bello mi piace che Devo parlare col guidatore Dov'è Questo qui l'autista E caspita Ti vedo proprio Troppo agitato Tizio Come hai fatto A non vedere il ponte Cos'è successo Eh lo so È capitato a te Che ti devo dire Ecco Nessuno si è fatto male Stiamo calmi Prendi un bel respiro profondo E dimmi cosa è successo Ah quindi lui si è praticamente Ah si è messo paura Si è messo Vabbè può capitare ragazzi Allora in pratica è stato L'autista nuovo A collegare il carico male Però lui doveva controllare Quindi Andiamo a spiccare Allora rimuovi gli oggetti Fotografi Fotografa la zona dell'incidente Da dove la fotografo La fotograferei di qua io State fermi voi Con questi veicoli Fammi premere la X La vedi Qua Secondo me Peraltro la batteria è in mezza Prendiamo questa foto Ok Se premevo questo pulsante Non so cosa faceva Chiudi Andiamo qui Che dobbiamo fare altre foto Sì 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 Qua ho capito Quindi fammi vedere Devo fare la foto qui Ok Peraltro me la fa In 4K A 30fps Che Ma a che cosa devo Che cosa devo fotografare Mi spiegate cosa devo Ah qui devo forse fotografare Eh lo vedi qua Quindi foto presa Ok Una foto presa E quell'altra foto vuoi Secondo me il carico vuole No il carico no Allora vuoi questo No questo già te l'ho fatto Forse che non era stato messo bene No non è questo Come faccio a capire Cos'è che vuole fotografato Allora di qua non posso andare C'è un'altra foto da fare Non so che foto fare Ah ecco cosa devo fare Lo vedi qua Sta sfondando questo Eh dobbiamo mandare sicuramente Qualcuno a riparare Eh vabbè Allora rimuovi gli oggetti Gli oggetti com'è che si fanno rimuovere Che non ho capito Che faccio Li prendo io così Ok take Che caspita faccio Il corriere faccio adesso Li devo mettere qui Secondo voi Sì oggetto rimosso Perfetto Quindi rimuoviamo tutti gli oggetti Eh caspita è stato difficile Sta missione Peraltro sto mouse Che non funziona È tutto buggato Sto gioco ragazzi Ma che vuoi di che fare Ma che vuoi di che fare Che è tutto buggato Allora tizio Fammi prendere questo I dialoghi ovviamente Ve li risparmio Perché sono in inglese Chi non parla bene l'inglese Magari O chi non lo riesce a leggere Che non lo capisce per bene Cioè alla fine ve li spiego io poi Allora andiamo di qua Cioè comunque Mi potevano dare una mano Cioè io c'ho quel tizio lì Ma scusi lei Non mi dà una mano A prendere sti cazzo di pacchi Che sono pesantissimi I pacchi più pesanti del mondo Mi sta facendo prendere Allora prendiamo questo Lo mettiamo qui Ok Andiamo a prendere l'ultimo E la scena è messa in sicurezza Io però dovevo fare Se non sbaglio Un Un qualcosa su Devo scrivere qualcosa Mi aveva detto Fammi vedere Ok gli oggetti li ho rimossi Task Ok questo qui l'ho fatto Accident progress complete 1200 200 Ok quindi continua Ok Quindi la musica parte Se ne va è la cosa più bella del mondo Uh caspita Guarda Tizio che facciamo I coni là se ne sono fottuti Bene Sono fottuti i miei coni Chiudiamo qui Come faccio a chiudere Chiudi il bauletto Ehi Non mi fate incidenti Qua c'era venuto un traffico assurdo C'era venuto Sali in macchina va Sali in macchina che ci andiamo a casa Torniamo a casa Vediamo se è quello lì a posto Peraltro ci abbiamo dei punti a spendere Allora per tornare a casa ragazzi Piuttosto che farmi 3000 km Che tanto è buggato Male è buggato Torniamo qui Nissan Ok Yes Perfetto Vedete qua È bellissimo Però ci sono dei punti interrogativi sulla mappa Avete visto che c'è un punto interrogativo sulla mappa Che caspita è sto punto interrogativo Una volta che ci passo vado a vedere che caspita vogliono sti cosi Punto interrogativo Vedi qua Che caspita ne so io Allora back Intanto salviamo Ok Fatemi parcheggiare la macchina Ok la metto qui dentro eh tizio Ok Non so che mi mette sempre la freccia Lo lascio qui E scendi Ok Ciao Ciao bello Fatemi salire che devo parlare con qualcuno Devo parlare con quello Devo parlare Che caspita vuole mo questo Conto direttamente Peraltro sei ringiovanito Caspitina non è che mi ringiovanito Ok mi ha detto di fare qualcosa Accetto un'altra missione Intuition Vado alla missione Vediamo quello che vuole Ok siamo arrivati 600 metri Tanto ci sono colleghi qua Dov'è che devo parcheggiare Non ho capito cos'è che voleva sta missione Però la facciamo lo stesso La facciamo Che faccio rallento Uh Ah c'è uno che è in difficoltà Ok 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 Andiamo a prendere noi Quindi vai di qua Piano piano Arriviamo con Circo Ok Con circo niente Circo Ok la destinazione l'ho raggiunta Emo Guarda quello guarda Esaurito Ha preso contro il camion parcheggiato Emo Ma io non ho parlato neanche prima con nessuno Ah devo fare Io devo fare il lavoro Tu vai solo a parlare Bene mi piace Ok Quindi che caspita devo fare Continua e fu Ok devo fare qualcosa Speak to the lorry driver Eh caspita Sarà difficile Sarà parlare con lui Se è in mezzo alla strada Eh ti vedo che non mi piaci Non mi piaci Non mi piaci Allora lui ha detto che il suo camion Non funziona Però noi vogliamo guardare Uh Guarda questo È esaurito È sfatti una donna No vabbè le donne non è che tutte quante guidano male Però questa guida male Allora come faccio a guardargli Signora guarda Si è messa in mezzo proprio le scatole In una maniera assurda Questo gioco buggato dallo schifo Allora Guardiamo qui Signora io le salgo sulla macchina A me non me frega niente Se si sposta si sposta Allora tutorial Police sense Alt Activate your police sense Ah ecco cosa serviva Questo enfatizza l'opportunità di interazione con gli oggetti sospetti e i veicoli Deve essere ricaricato Vabbè ce l'avevo capito Allora Jock Che caspita è sto Jock Investigate Eh cosa abbiamo qui Evidence Eh non lo so Non lo so Stavo seguendo il mio istinto Ok Pensavo fosse una cosa importante Però Questo qui fa le calze allora Scusi signor driver Eh Che caspittina è Che tutti fanno incidenti qua Che cos'è Sapete guidare Non sapete Signor driver mi perdoni Mi sa che ho preso Ho preso un abbaio Perché c'era Quel pezzettino Non serviva niente Forse qualcuno si è strappato E finisce così Finisce Torniamo alla stazione Certe volte mi finiscono le missioni Non mi fanno neanche il suono Intanto sto camion qui voleva investire Allora andiamo qui al nostro computer Spendiamoci i punti che abbiamo Qui punti intuito Mi ricordo com'è che l'ha chiamati Allora Additional work place For more police officers Che non mi interessa Evidence room Qua potrei mettere E l'archivio Really old school Ok Qua invece cos'è che posso sbloccare Posso sbloccare La trazione No Civilian veicolo Che non mi serve Un granché E qui cos'è che posso sbloccare L'intuito Quindi più intuito Quindi più intuito Per 10 secondi Ogni 10 secondi E questo invece quant'è Non si sa quant'è Questo è più veloce a piedi E questo qui E questo è per Giubbottanti proietti Allora facciamo una cosa Sblocchiamo Evidence E archivio Ok Sblocca l'archivio E sblocca Le evidence Quindi Vediamo un qua Questi qua li ho comprati 50 Penso che si Sapete che non so se l'ho comprato L'archivio Purchase Ok Sì l'ho comprato Lo vedete qua Era Era bagato il simbolo Ok Questo l'ho comprato Questo l'ho comprato Facciamo quit Dove me l'ha messo qui L'evidence Cioè dovevi avere tipo una stanzetta Qui cos'è che c'è Ah no Questi sono sempre i bagni delle donne Porca di quella miseria Entro sempre nel sbagno delle donne E qui Qui non c'è niente Qui si torna indietro Ok Non so dove me l'abbia messi Che non me l'abbia No Piano superiore Non c'è niente C'è il tetto Cioè dovrei avere una stanza Con le Con l'archivio Fammi vedere Sei tu la stanza con l'archivio No Tu sei sempre il pirlo di prima Che non ci sia una stanza sotterranea Potrebbe esserci una stanza Uh Eccolo Eccolo Ciao signora Posso parlare con lei No Qua non mi posso parlare Niente Questo che cos'è Questa è una stanza Dove non c'è niente Questa è chiusa Una stanza chiusa Open Open Tutto chiuso E qua Ma mi scusi Allora questo qui dovrebbe Ah Figo Figo Lo vedi questo qui È proprio una stanza Vediamo se riesco ad entrare da qua No È sempre chiusa Questa è tipo la stanza degli archivi Ok Posso utilizzare gli archivi Non si fa niente A parte l'orsettino Che c'è lì Non si fa niente Non si fa qui Mi servirà forse il futuro Allora Aspetta aspetta C'era Take Che caspita devo prendere La paperella Vabbè Ho trovato la paperella Sti gran cavoli Sono i migliori detettivi del mondo Vabbè ragazzi Non so come funziona questa cosa Probabilmente devo aspettare in futuro Di fare qualche altra missione E vediamo lui quello che mi dice Io spero che questo video vi sia piaciuto Intanto io apro tutte le porte Per vedere quello che c'è Se il video vi è piaciuto Vi ricordo di lasciare un commento Mi piace E di iscrivervi al canale Se siete ancora sui iscritti Di condividere i video se potete E noi ci vediamo Nelle prossime puntate Ciao